Ecco siamo nell'aeroporto su Varanavlumi, esattamente nella zona dove si prendono i bus. Ecco qui vediamo, siamo al primo piano, ci sono sia i bus che vanno a Pattaya che a Wain, poi ci sono i bus che vanno a Causa Road e quelli che vanno a Ko Chang e Kokod, che oltre al bus c'è anche la nave inclusa, ecco questa è la coda che c'è per chi va a Pattaya o a Wain. Come ho detto siamo al piano 1 dell'aeroporto, ecco qui fuori poi arriva il bus, ecco qui ci sono sia i bus ma anche i taxi per andare al centro.